Guardando anche il decreto di PCM di ieri, emesso da Draghi e dal Consiglio dei Ministri, i 250 case all'interno del contesto comunale, noi saremmo sicuramente rimasti fuori, avremmo potuto continuare col 50 o col 75% di didattica in presenza. Certo è che capisco la difficoltà di una regione, di un governatore regionale, nel prendere questa decisione, ma abbiamo a nostro favore un aspetto che non so se è unico in tutta Italia o perlomeno è molto particolare, che è quello che noi abbiamo fatto all'interno delle scuole secondarie di secondo grado, quelle che comunemente vengono chiamate scuole superiori, i test, lo screening con i tamponi. e abbiamo visto che questo è sicuramente una forma di prevenzione che aiuta a ritornare in presenza. Se questa cosa venisse ripetuta con una cadenza almeno mensile all'interno dei nostri istituti, avremmo il polso della situazione ed è quello che stiamo facendo, tant'è vero che il 4 e il 5 li ripetiamo per la scuola media e anche per le scuole secondarie di secondo grado, però naturalmente non essendo in presenza dovremo accettare la disponibilità personale di ciascuno. Però ecco, questo dello screening con i tamponi è sicuramente un'arma vincente a nostro parere. Lo diceva anche ieri sera il nostro sindaco nell'intervista con Bianca Berlinguer. Se questa cosa venisse diffusa a livello nazionale per far ritornare le scuole in presenza, soprattutto ovviamente le scuole superiori perché sono loro le maggiormente coinvolte, riusciremo sicuramente ad arginare e a prevenire questa situazione. Giornalmente sul mio tavolo arrivano le comunicazioni dell'Azur sulle varie situazioni nelle diverse scuole. Non è così grave, non è così grave. Perlomeno sappiamo ormai come comportarci. Arriva la certificazione dell'Azur, sappiamo che quella classe sarà in quarantena o sarà in quarantena semplicemente l'insegnante, dipende se è passato su diverse classi, eccetera. Si riesce sicuramente a gestire. Sta di fatto che comunque abbiamo riscontrato che la didattica in presenza dai nidi alle scuole medie ha naturalmente fatto nascere un gran desiderio di continuare a fare scuola. Se noi dovessimo interrompere adesso tutta l'attività scolastica, io credo che al di là delle ripercussioni sull'apprendimento e sulle capacità internazionali dei ragazzi, c'è anche un problema sociale delle famiglie, insomma, che non è cosa da sottovalutare.